La sala polifunzionale della provincia è stata ristrutturata da dieci mesi ormai ed è pronta per dare alla comunità quello spazio culturale di cui abitare bisogno, ma ad oggi è ancora chiusa. Ad intervenire sull'argomento il consigliere delegato della provincia di Teramo, Flavio Bartolini, che chiede alla regione un intervento immediato per uscire da questa situazione di stallo. Porre l'accento è una situazione che sta mettendo in grossa difficoltà tutta l'attività culturale di una città, perché la sala polifunzionale ha un tot numero di posti, quindi per poter fare le manifestazioni posso pensare al Maggio Festa, al Premio di Venanzio e a tutte le altre associazioni che hanno bisogno di una sala per poter esercitare la cultura in questa città. Noi come provincia stiamo cercando di sopperire perché abbiamo dato anche alcune aule magne e cauditorium delle scuole, ma non è possibile perché si rischia anche lì il danno erariale nel caso accendiamo i riscaldamenti. Per fortuna adesso con le belle giornate abbiamo potuto concedere qualche volta le sale, ma è un problema che veramente non riusciamo a capire, perché sono da dieci mesi che la sala profunzionale è stata restaurata e pronta. Una problematica legata sembrerebbe la mancanza di un documento essenziale per riaprire la struttura. E' pare che sia un pezzetto di scale addirittura, che ancora non si riesce ad avere questa oagibilità, per me sono enti incendi, non sono entrato nemmeno nei particolari perché veramente non ha senso nemmeno approfondire. Chiediamo alla Regione di fare subito, senza nessuna polemica, perché siamo seriamente in difficoltà. Una città che è in difficoltà, penso che sia dovere della Regione, cercare di risolvere il prima possibile questo problema. Anche un appello ai consiglieri regionali che si facciano anche carico di capire cosa sta succedendo e qual è il reale problema, altrimenti se non si può utilizzarla, chiudiamo una volta per tutte e ci organizziamo diversamente. Questo è quello che richiedo alla Regione di fare subito.